Questo video è realizzato grazie al programma EA Creator Network. Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo video di The Sims 4 e soprattutto di The Sims 4. Colpo di fulmine, sì! Benvenuti a tutti, io sono Alessandra su The Sims e se ancora non mi conoscete nell'info box trovate tutti i miei riferimenti per seguirmi ovunque e vi giuro veramente ovunque. Instagram, Facebook, la piattaforma Viola dove facciamo le nostre serie principali. Discord, importantissimo e vi ricordo che da pochissimi giorni ho aperto anche un secondo canale dedicato a materie esoteriche, un po' magiche. Quindi se vi interessano seguitemi anche lì, trovate i miei riferimenti ovviamente appunto nell'info box. Ragazzi oggi come avrete potuto vedere dalla intro nuovamente EA sulla base di chissà cosa mi ha dato nuovamente fiducia e sono qui per mostrarvi quindi in collaborazione con Electronic Earth una serie di feature che non avevamo indagato benissimo nella playlist dedicata all'accesso anticipato che trovate sempre qui sul mio canale e che avevamo dedicato appunto a vedere le principali novità. Abbiamo fatto comunque un bellissimo excursus quindi vi invito ad andare a recuperare quei video ma questa volta vorrei dedicarmi a qualcosa di un po' più preciso perché ragazzi miei saranno una serie di video che andranno molto veloci, vi anticipo già questo non sarà una mini serie come dire lenta ecco appunto ma sarà anche a passi grandi verso un unico obiettivo ovvero cercare di capire come si passa dall'essere dei novellini delle personcine così inesperte anche riservate al diventare dei consulenti del corteggiamento e attenzione ragazzi perché per fare tutto questo non potevo che avvalermi di uno special guest di eccezione mi starete chiedendo di chi sto parlando e se mi seguite su Instagram o qualche spoiler lo avete già avuto in vista infatti delle prossime settimane in cui il nostro programma trash preferito ripartirà e adesso capirete di che cosa sto parlando abbiamo qui con noi rullo di tamburi Filippo Besceglia ebbene sì ragazzi allora mi rendo conto che non sia esattamente uguale ma ce l'ho messa tutta per crearlo, ricrearlo e se vi piace potete scaricarlo dalla galleria Filippone Nazionale ebbene sì ragazzi tra l'altro veramente è un manzo di prima categoria e ovviamente non potevo che chiedere a lui di farci vedere come si passa dall'essere una persona inesperta all'essere un consulente del corteggiamento perché ragazzi ovviamente sappiamo che Filippo è noto per essere il consulente del corteggiamento e quindi appunto è qui a Ciudad Ennamorada io non vedevo l'ora di ritornare in città ragazzi vi dico la verità ma la cosa stupenda è che lui si è appropriato di un villone in cui probabilmente potenzialmente andremo ad invitare anche altre coppie in futuro perché ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi ma mentre il nostro Filippo sta mangiando e gustando i suoi biscotti a forma di cuore qui nella sua area picnic con accanto un orsettone peluscione con un bel cuoricione andiamo a capire qual è il nostro obiettivo in effetti perché ragazzi dovete sapere che lui sarà con un piede in due staffe non è ancora il Filippo che conosciamo colui che è esperto di tutto e tutti di tutte le relazioni amorose sulla faccia della terra colui che ha sempre una buona parola per tutti e che cerca di portare anche a riflettere le coppie per risolvere i loro problemi no, non è ancora quel Filippo vedremo come ci arriverà perché lui diventerà un consulente del corteggiamento ma non lo è ancora e allo stesso tempo cercherà anche appunto con un piede anche di avanzare nella sua aspirazione personale che è quella di esploratore romantico quindi mentre lui cercherà di avanzare lungo queste pietre miliari scintilla d'amore allargare i confini conoscitore dell'amore che lo porteranno anche appunto a mettersi alla prova con nuovi partner allo stesso tempo dovrà amici e amiche indagare la nuova carriera e cercare di avanzare fino a farsi promuovere il più possibile ovviamente perché stiamo parlando ragazzi della nuova carriera appunto da consulente del corteggiamento che tra l'altro ghiottone io direi di sì che tra l'altro io già ho fatto intraprendere perché dobbiamo portarci assolutamente avanti e infatti ragazzi lui è un novellino amoroso e andiamo a vedere come viene descritta questa carriera ragazzi consulente del corteggiamento tra l'altro adoro l'icona non abbiamo capito ancora se è il simbolo di Sailor Moon lo scettro oppure sono delle tube di falloppio comunque consulente del corteggiamento hai talento per l'interpretazione dei sentimenti un debole per il corteggiamento e ti interessa aiutare gli altri a trovare i loro lieto fine sì è Filippo nel tuo destino potrebbe esserci un ruolo come consulente del corteggiamento rami della carriera consulente di coppia e assistente di cupido ragazzi proprio assolutamente lui guadagnerà 20 simbolo non all'ora lavorerà dalle 9 alle 17 da lunedì al venerdì quindi ha anche il weekend libero ritieniti fortunato il nostro caro Filippo e a proposito di questo ragazzi abbiamo già la prima missione da compiere ovvero guardare il canale tv reality love per due ore praticamente lui sta guardando Tentation Island da casa prima di essere assunto per presentarlo praticamente e quindi andiamo su guarda un canale guarda il programma di reality love tra l'altro lui parallelamente oddio d'oro ragazzi c'è Filippo che guarda reality love non si può veramente sentire cioè o meglio sì perché effettivamente non l'ha sempre condotto lui c'è stata ci sono state anche altri presentatori e quindi funziona esattamente così praticamente però sì ah lui tra l'altro è sentimentale ragazzi quindi questa cosa assolutamente ci aiuterà è un sim sentimentale i sim come lui si innamorano facilmente e profondamente vivendo le gioie e i dolori dell'amore in modo più intenso che stiano dando voce all'amore con il loro ultimo post guardando la loro telenovela preferita o che siano ipnotizzati da un sogno ad occhi aperti ogni istante diventa lo splendido fotogramma di una saga romantica ah e a tal proposito ragazzi una volta che terminerà quello che sta facendo appunto vedere reality love per due ore ci daremo un po' da fare con la sua aspirazione perché lui vuole andare ad un appuntamento conoscitivo quindi assolutamente dobbiamo ingaggiare anche l'angolo di cupido bravissimo il nostro Filippo ha completato l'assegnazione lavorativa a guardare il canale per due ore e tra l'altro ragazzi vi faccio notare che sono le 13.50 abbiamo iniziato questa avventura appunto martedì mattina e una delle cose di cui vorrei tenere le tracce è appunto quanto tempo ci vorrà in giorni sim per raggiungere questi obiettivi quindi anche per darvi un dato reale mettendocela tutta ogni giorno nel massimo dei nostri sforzi in quanto tempo riusciremo appunto a soddisfare entrambe le cose magari con questa non arriveremo proprio alla fine della nostra aspirazione ma l'obiettivo è diventare un consulente del corteggiamento questa è una missione che Filippo deve assolutamente compiere nel migliore dei modi e a tal proposito ragazzi lui grazie a questa missione ha acquisito anche l'abilità di corteggiamento gli permetterà di flertare più frequentemente no più di frequente e di corteggiare gli altri sim più velocemente ora Filippo può eseguire circa consigli sui ghidilli al computer e presentazione romantica quindi siamo prontissimi ragazzi per fare qualcosa di romantico e nello specifico direi di andare ad aprire quindi subito l'angolo di Cupido se non è romantico questo non so cosa lo sia tra l'altro dobbiamo anche auspicare che smetta di piovere perché vorrei andare in un luogo pubblico prima di invitare la nostra ragazza mamma il nostro appuntamento qui a casa scusatemi vediamo se riusciamo a farci un'altra bella mamma oddio aiuto ovviamente ovviamente perché non è oh cielo Filippo ti prego mettiti a fuoco cosa è successo andiamo a vedere se è uscita no è uscita orrendamente beh ragazzi questo è inquietante sembra un serial killer io direi di di no Filippo scusami qualche foto un po' più carina come dire eh dai questo ancora ancora beh oddio in realtà non saprei sinceramente e vediamo eh un po' creepy sinceramente vediamo ma è possibile che non ne troviamo una in cui sta veramente eh dai questa qua con questa sta bene però non ti mettere lì mettiti magari con un uno sfondo un po' più ecco qualcosa che ti dia un po' più di luce peccato che hai i capelli talmente alti che non entrano tutti quanti qui nella nello spazzetto quindi beh forse era meglio l'altra va bene va bene così vedono il suo occhio chiaro che potrebbe assolutamente attirare e si descrive come sentimentale e romantico assolutamente sì ragazzi in effetti è quello che è io direi togliamo anziani per il momento giusto per mi attrae romanticamente eh nessuno fichi fichi con donne uomini oh mio dio ma sei un ragazzo complicato vediamo ricerca di anime gemelle in corso no ragazzi guardate che bella questa ragazza Avery Avery è attiva e ha malaria aperta io le mando un cuoricino dovete sapere che adesso a differenza di quanto vi avevo fatto vedere nell'accesso anticipato nell'angolo di cupido possiamo trovare sim che vengono prelevati dalla galleria quindi io assolutamente vado a mandarle un bel cuoricino ovviamente quando non compare la scritta vuol dire che sono sim come dire creati dal gioco ecco ma lei è adulta? ha capelli grigissimi diciamo che o scelgo omessa no Luca non mi piace sinceramente o scelgo omessa oppure ciudad ennamorata ma mi sembra che per ora non ci sia ancora ciudad ennamorata ragazzi al momento io direi che lo mando soltanto a lei mi piace moltissimo non c'è altro sinceramente a meno che aggiornando la ricerca mi escano altre creazioni dalla galleria vediamo un po' Alberto no devo assolutamente dire a tutti che non mi interessano i ragazzi per il momento Filippo cercherà soltanto donzelle oh che bella anche lei romantica materialista mmm swed woman creazione swed woman io direi aggiungiamo anche questo si chiama tira Isabella a me incuriosisce tantissimo ragazzi andare a conoscere sim dalla galleria quindi io direi la prima impressione quella che conta io direi di invitare Avery ad uscire quindi chiediamo di incontrare ragazzi e vediamo appunto di svolgere anche il nostro primo appuntamento con lei Avery Palmer tra l'altro ve la faccio vedere per bene è adorabile carinissima l'unica cosa si è presentata all'appuntamento in costume sinceramente non so a questo punto se sono dei messaggi subliminali ma vi faccio vedere in che cosa consiste l'appuntamento conoscitivo allora forse scoccherà la scintilla o forse gli ardori si affioriranno ma è il momento di scoprire se possa nascere qualcosa tra i tuoi sim facendo in modo che inizino a conoscersi meglio o magari i tuoi sim sono già perdutamente innamorati e un appuntamento occasionale è proprio ciò di cui hanno bisogno per approfondire il loro legame sarà in ogni caso un'avventura indimenticabile ragazzi dopo letteralmente una socializzazione un'interazione sociale lui già le ha preso le mani per sbaciucchiarla quindi stiamo andando alla grandissima e io direi a questo punto lei ci sta quindi vediamo un attimino se possiamo anche romantico affetto confessiamo l'attrazione vai oh yes intimità fisica lieve avendole baciato le mani ovviamente è andata a buon fine quindi andiamo un attimino anche intimità fisica a stringerla si oh ops mi sa che siamo andati un po' oltre lei è imbarazzata benissimo vediamo incontro imbarazzante ops però in compenso lui ha raggiunto il livello 2 di corteggiamento e può condividere il cufanetto delle coccole con altri sim che al momento però non abbiamo ancora nella borsetta ma lo faremo allora intimità fisica lieve quindi non siamo potuti andare avanti ma direi visto che siamo qui a lunch bar per un motivo andiamo a mangiare e a bere qualcosa che carini ragazzi lui le ha offerto un nettare di fragole si sono seduti qui insieme a chiacchierare tra l'altro lui se l'è già scolato tutto c'è qualcosa che vuoi dirmi ragazzi vediamo discuti delle zone di pesca locali ok allora parla delle bevande visto che abbiamo preso una bevanda io direi di parlarne che ne pensi vediamo no termina allegramente direi di no parla delle bevande vediamo parla eccolo qua delle bevande preferite ragazzi se non sapete di quale mod sto parlando quando scrivo queste cose per cercarle con facilità andate a vedere la playlist delle nozze fondamentali e delle mod che non potete assolutamente non avere perché la trovate lì ve l'ho recensita a tempo fa è fondamentale per me veramente parla dell'intimità fisica attenzione lei mi sa che ci sta assolutamente e quindi magari possiamo parlarne con cautela per poi avvicinarci ma attenzione perché ora che abbiamo conseguito il livello 2 di corteggiamento abbiamo risolto già il secondo step di questa pietra miliare quindi ora che concluderemo anche l'appuntamento conosciuto sarà già 1 e 2 usa la coperta romantica 3 volte per corteggiare e condividi cibo 2 volte ma tra l'altro articoli romantici cofanetto delle come si chiamano ancora le dobbiamo acquistare eccolo qua parla dell'intimità occasionale ragazzi l'altra volta cioè l'altra volta 5 minuti fa letteralmente lei ha rifiutato questo argomento vediamo se adesso guardate quanto è abbastanza avanti comunque la nostra situazione conoscitiva non dovrebbe prendere ah ok non dovrebbe prenderla male no invece l'ha presa male secondo me ha accettato intimità fisica lieve vediamo chiediamo come va l'appuntamento assolutamente sì e sinceramente non so nemmeno se azzardare a parlare della carriera consulente da informazioni utili sull'amore vediamo ragazzi perché in qualche modo al momento io Filippo potrebbe dover fare un po' più di attenzione assicurati di raggiungere qualche obiettivo dell'appuntamento ancora possibile che vada bene no non mi ha ancora detto che sta andando bene ovviamente l'amore è fugace ormai il potere dell'amore non sembra più lo stesso ragazzi non l'ho colpita parlando della mia carriera mannaggia non ti preoccupare Avery svolterò la vita anche a te in un modo o in un altro vediamo relazione attenzione chiedete delle preferenze romantiche ovviamente rientra anche questo nella socializzazione ma poi dobbiamo farci un po' avanti parla delle bevande ma non ne abbiamo parlato scusami ho parlato delle bevande preferite chiacchiera no quindi scegli a caso dei passanti per stare e chiedi quali sono le loro preferenze romantiche che modi oddio ops sei un po' offesa mi dispiace ragazzi Filippo è un fusto assurdo io vi giuro vi ricordo che lo trovate comunque in galleria se volete scaricarlo perché secondo me è veramente stupendo tra l'altro ho chiesto di ordinare del cibo perché lui vuole anche mangiare qualcosa a prescindere e se magari riusciamo anche a flertare questa maledetta Lily Fang che mi segue da tempo sa chiedete confini romantici non credo che sia ancora il momento ma io ho ordinato ragazzi degli edamame e sinceramente non mi sembrano proprio appetibili mi sembra una zuppa quasi quasi ok mangia qualcosina ok e dopodiché andiamo ad usare interazioni affettuose vediamo se abbiamo un regalo stampa piccola la nostra foto è vero lui si è sbranato praticamente tutti gli edamame assolutamente sì ragazzi devo urgentemente andare a svolgere anche le ultime missioni di questo appuntamento cara questo regalo è per te ragazzi avere il nostro primo appuntamento ti è piaciuto? vediamo non credo sinceramente interazione affettuosa attenzione però sì perché è una di due e quindi affetto posa sexy vediamo e anche intimità fisica lieve sinceramente io penso che sia il momento di baciare le mani nuovamente mamma mia l'ha visto anche lei il muscolo livello 3 di corteggiamento intimità fisica lieve e anche qui inizia la soddisfazione romantica Filippo e Avery hanno una solida relazione romantica e ora i loro livelli di soddisfazione sono indipendenti un alto livello di soddisfazione romantica facilita il mantenimento della relazione romantica mentre un basso livello lo complica beh Avery è assolutamente fritta cotta e condividi interessi flirta allora è argento ragazzi è argento parliamo dell'intimità fisica vediamo se allora facciamo una cosa scusatemi azione chiedi di prolungare l'appuntamento visto che sta andando bene potremmo approfittarne vediamo ti prego ti prego vediamo non c'è ancora niente che riguarda la nostra storia sì evviva più tempo per l'incontro OMG mi ha baciata ha baciato più tempo per l'incontro il cronometro dell'evento ha registrato l'incremento approfitta al massimo dei momenti aggiuntivi o prova a chiedere più tempo no deve fare la pupù no ragazzi mi dispiace non è assolutamente il momento per te mio caro Filippo ragazzi non sappiamo ancora la sua situazione ma lui al momento ha soddisfazione nei suoi confronti per quanto riguarda l'attrazione indifferenza ma dobbiamo approfondire la situazione tra l'altro vi ho fatto notare che lei si è vestita elegante per la situazione un po' più piccantina eh sì decisamente allora io direi a questo punto di andare subito su Flora e battuta di abbordaggio e poi vorrei assolutamente ballare per lei secondo me cadrà ai nostri piedi ragazzi anzi posso chiedere di eseguire il ballo assolutamente sì vediamo se lo farà per me ti prego Avery chiedi di eseguire un ballo seducente beh ragazzi se lo farà vuol dire che veramente abbiamo grandi probabilità questa sera di quagliare con lei ebbene sì vediamo un pochettino come reagirà eh me lo fai un ballettino seducente sì ragazzi ma tra l'altro in teoria potremmo anche indossare wow entrambi stanno ballando in un modo assolutamente brava lei che movenze Avery Avery romantici perfetto perfetto tra l'altro sì condivisione degli interessi per il momento non è proprio la nostra priorità però potremmo farlo e condividi pensieri profondi anche i due ragazzi l'intimità fisica è qualcosa che dobbiamo affrontare quanto prima perché altrimenti guardate lei oh mio dio vediamo intimità discuti delle forme di intimità ragazzi secondo me è questo di cui dobbiamo parlare il coricino discuti delle forme di intimità vediamo spero vivamente che sia questo amichevole chiacchiere perché è uno è una la cosa da eccola infatti e adesso invece ci rimangono tutte cose da due step quindi per forza di cose vediamo lei ragazzi lei comunque è fritta veramente intimità fisica lieve ragazzi sì non poteva che concludersi in questo modo in questo modo perfetto ovvero con un primo bacio e devo dire che è coerente perché c'è una super soddisfazione romantica per essere molto soddisfatto di una relazione romantica però ragazzi intimità fisica lieve ma in questo caso a questo punto io credo che anche un bacio appassionato ce lo possiamo permettere che ne pensate e se tutto va bene dovrebbe essere proprio questo niente fichi fichi o scappatelle mamma e chi ce lo doveva dire a noi ragazzi oh mamma mia non ci credo sembra che Avery si stia innamorando di Filippo e voglia chiedere se sarebbe disponibile a stringere una relazione diventate partner romantici a consenti io direi di sì ragazzi oh cielo Avery ci ha appena fatto questa proposta ragazzi ma io sono basita condividi pensieri profondi vediamo oh dio si conversazione profonda partner di Filippo oh cielo ragazzi adesso per piacere però voi dovete necessariamente concludere con una medaglia d'oro perché sta andando tutto troppo bene non potete cadermi qui quindi condividiamo pensieri profondi per due volte pensieri profondi conversazione profonda di nuovo oh mio dio mi era già uscito discuti di allargare la famiglia che stiamo scherzando non è ancora il momento anche perché Filippo in realtà vuole stare un po' libero ragazzi quindi medaglia d'oro medaglia d'oro ragazzi ma vediamo se possiamo a questo punto anche sfruttare la coperta ragazzi sto morendo per quello che sto per farvi vedere allora a parte il fatto che qui mi dice beatitudine dell'amante cioè lui proprio in estasi totale ma attenzione perché il nostro Filippo ha allestito tutta una situazione romantica e per essere credibile l'ha fatto nel migliore dei modi simulando una specie di salottino una specie di salottino è andato a collocare una coperta davanti a un finto caminetto qui all'esterno giustamente per non far sembrare la cosa uno squallore totale e quindi vieni qui a fare fichi fichi con Avery vediamo se riusciamo a farlo ragazzi perché ormai ci siamo guadagnati la medaglia d'oro e la cosa bellissima è che cosa Avery ti prego non è il momento giusto ma lei in cinque secondi cioè ragazzi tra poco questa mi fa la proposta di matrimonio io direi non credo che sia il momento giusto tormentata cacchio raga ma mi sembrava assolutamente un attimo troppo avventata come decisione io direi no dai non è tormentata anche se lei a questo punto non so se sia troppo normale ragazzi mi sto iniziando a fare qualche domandina vediamo però se riusciamo a fare fichi fichi sulla coperta perché secondo me stando così le cose il livello della relazione romantica aumenterà nel corso del tempo in modo graduale e automatico si ha preso gli interessi scusami non lo fate fichi fichi con Avery mi sembra che si ragazzi mi sembra che avesse accettato oh mio dio non posso non posso ho messo il camionetto troppo vicino eccoli eccoli ragazzi oh mio dio la cosa sta andando assolutamente molto veloce beh che dire Filippo a questo punto sta galoppando l'occasione di diventare un fantastico consulente del corteggiamento e a questo punto ragazzi oltre all'appuntamento conoscitivo oltre a conseguire il livello 2 di corteggiamento e oltre ad usare la coperta romantica 3 volte per corteggiare ci rimane solamente condividere il cibo 2 volte spoiler lo faremo oggi stesso dai però guardate che carina questa situazione un finto salottino organizzato solo per lei Avery beh ormai ragazzi medaglia d'oro a tutti gli effetti non ci resta che condividere il cibo aspettate che lui ha preso un cofanetto anzi andiamo a scegliere un paio va perché ne ha due di cose da condividere quindi io direi mochi cofanetto delle coccole potete andarlo ad acquistare cliccando su acquisti sul computer e io andrei su mochi e fichi canditi facciamo anche questo va ed eccoli qua ragazzi nell'inventario ma scusatemi la cosa meravigliosa non avevo notato pensavo mi avessero dato soltanto una cornice invece è stato un appuntamento leggendario il tuo sim ha davvero fatto farille nell'inventario del tuo sim è presente un regalo per aiutarti a ricordare lo splendido incontro prova a personalizzare la descrizione con l'interazione da un nome ritratto di ricordi preziosi oh mio dio raga a questo punto io direi primo appuntamento con Avery eh dai fu magnifico fichi fichi su coperta di orso meraviglioso per concludere ragazzi dovevamo dirlo qualcuno doveva pur dirlo e a questo punto andiamo quindi a condividere con lei il mochi andiamo subito ragazzi ma ci rendiamo conto lui comunque è grandissimo cioè è assurdo che ha il massimo del livello della barra rosa e questa cosa mi fa pensare che lui abbia del potenziale veramente immane per diventare un consulente perfetto e condividiamo step uno quindi l'abbiamo condiviso una volta vediamo un attimino però di condividerlo due volte quindi sarà due scatoline che consumeremo io credo vediamo condividi cibo due volte ah ovviamente ragazzi anche dal telefono potevamo mettere articoli romantici oppure dal computer e benissimo è caduto vediamo un attimino se riusciamo uno l'abbiamo fatto oh che dolce gradicesimo virgolosi sì ah perfetto e uno è andato adesso ragazzi prendiamo l'altro fichi canditi condividi con Avery Avery ti prego aspetta un attimino prima di andare in mano ragazzi ma ecco probabilmente per quale motivo il tutto perché come potete notare qui abbiamo una compatibilità una buona compatibilità io questa cosa non l'avevo notata invece con abbiamo scelto bene ragazzi perché con Tyra non sarebbe andato così bene come potete notare perché appunto non c'è quel livello di compatibilità ok che dolci anche la seconda condivisione di cibo sta andando a buon fine ragazzi la prova del nove ebbene sì abbiamo completato la prima pietra miliare con questo appuntamento che è durato fino alle due di notte io direi che a questo punto il nostro Filippo tornerà a casa perché necessariamente dovrà andare a dormire anche perché ragazzi vi ricordo che tra sette ore lui dovrà andare al lavoro quindi direi teletrasportiamoci subito a casa e ci vediamo nel futuro allora ragazzi sono le otto e venticinque il nostro Filippo con questa bellissima mutandina boxer con i cuoricioni sta andando a farsi una doccia molto veloce perché ho scelto di farlo andare al lavoro fisicamente quindi lei e starà via fino alle diciassette quindi tra venticinque minuti dovrà uscire di casa e l'incarico del giorno è studiare l'amore moderno al computer mannaggia ok ragazzi allora io ho messo il pc qua per veramente giusto almeno iniziare a fare questo incarico anche se al momento dobbiamo scappare però mi ha fatto raggiungere il livello 4 di corteggiamento quindi prego che questa cosa potrebbe comunque portarci un vantaggio nel livello qui guardate che fa il coricino lui con le dita e sta per andare al lavoro però appunto sta studiando l'amore moderno che troviamo in carriera studia l'amore moderno quindi ok ha iniziato ma direi a questo punto di lasciare tutto e con quello che abbiamo andare livello 4 quindi di corteggiamento abbiamo detto e rendimento al momento che mi dà buono a tal proposito ragazzi vi volevo anche far vedere qual è la mise l'outfit per un potenziale oh mio dio Avery è qui nonostante io le abbia detto che non voglio convivere con lei benissimo il potenziale consulente di corteggiamento è vestito così lui è un fusto assurdo lo dirò every night every day e qualcosa di romantico perfetto e ragazzi qualcosa di romantico lui in realtà l'ha già fatto perché vi faccio vedere al piano di sopra sopra la tv guardate cosa ha messo la foto che hanno scattato insieme che ci ha dato l'aver risolto l'appuntamento con una moneta d'oro io la chiamerò moneta si ragazzi e quindi adesso andiamo al lavoro lei ci aspetterà alle 17 vediamo che cosa succederà qui in casa quando tornerà ragazzi miei attenzione perché qui mi dice servizio giornalistico grazie al tuo approccio originale al corteggiamento e alle relazioni hai ricevuto un invito ad apparire in un servizio giornalistico esclusivo che potrebbe spianarti la strada verso la notorietà ma anche chiamarti a rispondere ad alcune domande indiscrete che possono compromettere il rapporto confidenziale con i clienti oddio Filippo guadagnerà fama e sarà degradato no ragazzi ovviamente io non voglio approfittare della fama sinceramente perché no anche perché sospetto che qui il rendimento mi vada giù che vuol dire degradato mi fa scendere di grado già sto al grado zero rispetto alla riservatezza confidenzialità tra medico e paziente sì per quanto l'offerta sia generosa scegli di rifiutarla tieni molto alla tua immagine non solo di consulente ma anche di confidente custode di segreti le sempre qui che spaziano dall'amore al dolore neanche il fascino della fama riesce a sottrarti a questo sacro compito aumento del rendimento medio ragazzi vi prego mancano ancora diverse ore spero vivamente ma lei che ha fatto non è che ha frugato tra le mie cose perché è un po' triste boh non lo so e ragazzi spero che in queste ore riusciamo a rendere ancora di più per ricevere il flag qui per la promozione nel frattempo gli ho messo la vorasodo ovviamente scusate ma cosa sta succedendo che ne diresti se venissi a dormire da te per qualche giorno non so chi sia ma a questo punto come posso esimermi sono troppo curiosa io direi di sì ok ma chi cavolo è io boh non lo so niente ragazzi purtroppo non sono stata promossa però manca veramente pochissimo quindi ora studieremo l'amore moderno al computer e dopodiché dobbiamo soltanto andare al lavoro per essere promossi secondo me comunque scusatemi non ho capito mi sento in colpa per qualcuno nei paraggi ma perché qual è la nostra situazione qui con Avery non è che lei se l'è presa perché ragazzi attenzione Filippo per Avery rifiuto residenziale Filippo ha deluso Avery rifiutando di convivere e il contrario Avery mi dice senso di sofferenza Avery si sente molto ferita dal rifiuto di Filippo pensava che fossero più vicini oh mio dio ragazzi scusatemi ragazzi a questo punto viene da sé che devo discutere dei confini romantici questa è anche parte di questa nuova pietra miliare quindi Avery con tutto il bene che ti voglio ma andiamo su relazione scopri dettagli chiedi dei confini romantici chiedi di rivalutare i confini romantici potrei chiedere anche vediamo vediamo se anche questo fa parte di discutere dei confini romantici secondo me sì e poi stringiamo anche tre volte e abbiamo completato anche la seconda pietra miliare ragazzi io non ci posso credere cioè l'ospite è rimasto a dormire colui che mi ha chiesto di rimanere a dormire è proprio Avery io non ce la faccio cioè c'è la sua valigia qua in camera vi dico solo questo cioè boh comunque lei mi dice che si ingelosirebbe per qualsiasi cosa sia cose fisiche che come dire coinvolgimenti fisici leggeri che non fisici però è disponibile a rivalutare i confini romantici comunque le abbiamo discussi adesso la vado a stringere tre volte ma prima ragazzi a questo punto io voglio vedere scopriamo i dettagli anzi no cambia relazione chiedi di rivalutare i confini romantici io direi chiedi di accettare coinvolgimenti fisici lei ha detto che è disposta ragazzi andiamo a vedere se tutto questo è vero comunque cioè lei si è autoinvitata della serie non posso venire a vivere da te ma vengo a dormire ragazzi ehi là non ci conosciamo ma vedendo di lontananza ho chiesto a un comune amico provo una attenzione irresistibile verso di te sono una persona tranquilla ti andrebbe ad incontrarmi io direi ma certo ragazzi aiuto ma chi è non sarò gelosa mi metto la giacca e vengo subito da te tra poco ragazzi allora mettiamo subito in pratica quello che lei mi ha detto e anche lei è novellino amoroso presso ah no no presso angolo oddio ragazzi ma noi lavoriamo presso angolo di cupido oh mio dio allora scusatemi nel frattempo voglio andare a stringere lei allora ragazzi oggi qualcuno litigherà io ve lo dico perché praticamente lei appena è arrivata abbiamo completato la seconda pietra miliare lei appena è arrivata già si è arrabbiata perché i suoi confini romantici sono esattamente come lei quindi gelosa praticamente sempre senti cara io non è che posso ottenerlo in un appuntamento ragazzi ma com'è possibile questa cosa io non posso stare a pensare a quella e tutto il resto cioè senza considerare anche Avery che è rimasta anche a dormire mamma mia allora ragazzi come ultima cosa che facciamo oggi poiché tra 14 ore andiamo al lavoro vado un attimo al pc e quindi vado a studiare quello che stavamo studiando già ieri ovvero oggi studia l'amore moderno giusto? sì al computer tra l'altro la situazione a questo punto l'ho lasciata nelle mani di due donne che si accapiglieranno per me probabilmente chi può dirlo comunque abbiamo qui Vanessa livello già romantico molto alto ragazzi io non lo so cosa potrebbe succedere comunque per quanto riguarda invece l'aspirazione che tra l'altro vi dico sta andando a gonfie vele abbiamo soltanto conoscitore dell'amore da svolgere che è un po' più complicato come step ma vediamo di mettercela tutta magari farò qualche cosa off camera però per il momento quello che ci interessa è che lui avanzi di livello come novellino amoroso quindi probabilmente quando ci vedremo nel prossimo video nel secondo video saremo un po' avanti nel futuro e vi farò un recappo di quello che è successo senza di voi ok? spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto per il momento vi lascio così con il nostro Filippo che sta facendo ricerche su matrimonio.it chi può dirlo io mi sto divertendo tantissimo a rigiocare appunto a questa espansione a me piace veramente veramente tanto lei è andata ad altro mi sta piacendo veramente tantissimo l'espansione e le cose da fare sono tante poi sapete che il mio focus sull'aspetto amoroso romantico è sempre come dire predominante nelle mie serie quindi questa è proprio l'espansione per me ma immagino anche per voi mi raccomando ragazzi se siete arrivati fino a questo punto del video lasciatemi un vostro commento e nello specifico scrivetemi esploratore che è quello che è adesso Filippo sta esplorando un po' tutto sia carriera che vita sociale e ovviamente mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto e anche per la fiducia per nuovi video che usciranno e ragazzi mi raccomando vi ricordo che avete anche la possibilità di utilizzare il mio codice affiliato sia sul sito thesims.com che su ieapp per gli acquisti che appunto farete in ambito The Sims e quindi vi ricordo che è Ale su The Sims ve lo lascio anche nell'info box mi raccomando a voi non cambia nulla nell'acquisto però aiuterete la nostra community a crescere sempre di più quindi ragazzi con questa scena io vi rimando al prossimo video alla prossima puntata spero che vi piacerà quello che vedrete anche in futuro stasera ci sarà la notte fantasmi ti vado a passare il tempo insieme tira mamma mia ragazza aiutatemi io direi per il momento no anche perché queste stanno litigando chissà quindi ci vediamo prestissimo un bacio a tutti e ciao ciao